Sono a Barberino di Mugello e sto per entrare nella chiesa di San Silvestro, riaperta dopo 662 giorni dal sisma, dal terremoto che colpì questa terra nel dicembre del 2019. Dopo il restauro sono state riportate alla luce le decorazioni di titochini, sulle pareti delle cappelle laterali, sul catina psidale, opere scialbate, coperte da uno strato di vernice bianca negli anni 50-60. Delle fornaci San Lorenzo di Borgo San Lorenzo, dirette da titochini, sono anche la pavimentazione sotto gli altari, gli altari stessi, la via Crucis e le straordinarie vetrate con gli evangelisti. Merita davvero una visita e soprattutto merita di essere riscoperto questo artista, spesso offuscato dalla fama di Galileo Chini, cugino del padre Tito Chinochini. Sempre nel corso Corsini, a poche centinaia di metri sulla facciata del palazzo al numero 113, trovato una buchetta del vino, di cui vi ho parlato nella precedente pillola d'arte.